Ciao a tutti ragazzi siamo Henry e Molly e oggi ragazzi ci sarà un video incredibile dovremo scegliere le pozioni ragazzi che bello non vediamo l'ora però io ho anche un po' paura sinceramente di questo gioco perché potrebbe essere pericoloso dato che non sappiamo in che cosa ci trasformeranno queste pozioni allora dobbiamo scegliere destro o sinistra non sappiamo che pozioni verranno e quindi direi di cominciare subito per chi comincia e visita questa volta ok allora vediamo destra oppure sinistra e la pozione che sceglierò dovrò berla Reby eh ok e poi ti dovrai trasformare in non so che cosa dipende che pozione sarà oh mamma e se non fosse un personaggio ma fosse tipo non lo so e devi fare qualcosa di strano non lo so allora io scelgo sinistra sei sicuro eh sei sicuro guarda che non la puoi più cambiare eh vediamo oh è blu Reby che cos'è? guarda Reby una pozione tutta blu oh mamma ma fa impressione ti devi bere quella cosa tutta blu ok allora cosa potrebbe essere questa pozione blu ovviamente potrebbe essere la pozione di Agiwagi mi viene da dire oppure blu che cosa potrebbe essere Reby? oh mamma eh non lo so uno stregone sentiamo oh fa uno strano odore no non fa puzza ma è leggermente dolciastra la bevo aspetta 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 vediamo l'altra cioè tu potevi scegliere quindi tra la blu e la verde chissà qua questa cosa succede sembra quasi fluorescente questa ok allora direi di berla sei pronta? vai oh mamma ragazzi ho paura che stiamo lì che cosa si trasformerà eh 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 ah eh ok ho bevuto la pozione blu non abbiamo idea ragazzi di che cosa potrebbe succedere però secondo me Reby è la pozione di Agiwagi sei sicuro? non lo so lo vedremo a breve allora ragazzi sono passati non lo so 5-10 minuti non ne ho idea ma ancora non è successo niente cioè Molly è rimasto così com'era normale quindi non lo so magari avrà qualche superpotere eh Molly riesce a diventare invisibile non lo so ma succede qualcosa con questa pozione? Reby? oh Molly cosa ti è successo? c'è un problema te l'avevo detto era la pozione di Agiwagi oh mamma ma allora lo sapevi l'hai bevuta apposta? ma dobbiamo berla se scegliamo una pozione dobbiamo berla Reby per forza ma adesso quindi ti trasformerai tutto in Agiwagi? spero proprio di no 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 ti prego io non voglio giocare tutto il tempo con te allora facciamo così adesso tocca a te e bevi un'altra pozione perché non è giusto che solo io mi devo trasformare oh mamma ok ma speriamo di sceglierla bene ok Reby abbiamo cambiato le pozioni e adesso dovrei scegliere destra o sinistra oh mamma non lo so ma posso fare una domanda? si le hai cambiate tutte e due? si e quindi io adesso che colori posso scegliere mi puoi dire almeno quali sono i colori? no destra o sinistra oh mamma ragazzi non so cosa scegliere allora tu prima avevi scelto destra no avevi scelto sinistra dai destra 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 oh prendi la Reby vado? non ci credo verde e fluo no la pozione è verde di prima ma avevi detto che le avevi cambiate tutte e due fa vedere è bellissima ma è verde e fluo ragazzi guardate è super colorata eh si ok ma è verde e adesso mi trasformerò in una rana no 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 non voglio trasformarmi in un ma ma non so di niente questa pozzonella proviamo vai bevi 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 che sapore ha? è amarissima è amara? è amara si un sacco non ci tengo per niente chiudiamo facciamo così chiudiamo e aspettiamo Reby come stai? tutto bene allora? certo hai visto non è successo per niente oh mio dio le tue mani oh no no ma queste sono le mani del Grinch come sono pelose non mi prendi i giri hai capito oh no oh mamma stai diventando il Grinch Reby no è il Grinch mamma ma con tutto quello che poteva diventare il Grinch con queste malazze pelose allora Reby no 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 calma era la pozione del Grinch allora si era la pozione del Grinch ma adesso quando mi andranno via queste mani? allora Molly sei ancora metà Molly e metà Ghiwaghi eh però dovrai scegliere un'altra pozione allora nei due qui davanti quale scegli? destra o sinistra? arrabbacicicocco se vuoi ti dà un indizio sono tutte e due molto simili allora io scelgo mi consigli questa? eh non lo so allora siccome prima ho scelto destra adesso scelgo sinistra oh mamma e quindi scelto quella rossa è rossa ok allora potrebbe essere rossa di un vampiro forse un diavoletto un diavoletto no aspetta Molly ma tu sei già metà Ghiwaghi se bevi anche quella rossa diventi metà Ghiwaghi e metà diavoletto non lo so oh mamma ma io devo scappare dopo proviamo con questa mano non riesco ad aprire la pozione aspetta ti aiuto io eccoci ecco ce l'ho fatta oh è super dolce è dolce? no buona anch'io la voglio se è dolce ah è super dolce buona ok allora quindi aspettiamo un pochettino e aspettiamo di diventare un diavoletto certo che Molly se si mischiano le pozioni a fine giornata saremo non lo so cinque persone diverse in una cioè sarà divertentissimo pensi un po' te dai dammi cinque ecco ti ah ah Aghiwaghi e il Grinch oh 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 Raffi c'è un problema oh oh ti sei trasformato in Babbo Natale ma che cosa sta succedendo? ehi guarda che io odio Babbo Natale ehi hai capito allora sono metà Babbo Natale e metà giocare oh mamma mia Raffi ma hai ancora il fiocco di Aghiwaghi sotto questa barba ma è impossibile penso se dovessi bere un'altra pozione no non vedo l'ora ma nel frattempo taglieti quel cappellino capito? perché io sono il Grinch ehi tocca a te avere la pozione no io non voglio diventare due personaggi nello stesso momento oh 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 scegli destra o sinistra Raffi oh mamma eh tu cosa mi consigli Molly? cioè volevo dire Aghi cioè volevo dire Babbo Natale io ti consiglierei di berle tutte e due ma come posso berle tutte e due? dai dimmene una allora potresti scegliere quella alla mia destra eh ok allora sceglierò quella alla sinistra perché tu sei Babbo Natale io sono il Grinch quindi farò l'esatto contrario quindi sceglierò proprio questa ok va bene vediamo un po' è una pozione tutta scura ma che cos'è questa roba? è marrone eh che schifo eh che schifo fa quasi più schifo del Natale eh ma io sono il Grinch adesso ma c'è com'è possibile che io ogni volta mi trasformi nel Grinch che io adoro il Natale cioè il Natale è la festa più bella dell'anno ma perché? perché devo essere sempre il Grinch? forza bevi questa pozione Grinch in questa pozione in questa pozione marrone ci sarà un mostriciattolo così divertente che farà scappare il Grinch dal mio corpo vediamo allora vediamo un po' che puzza ma c'è di carbone questa cosa carbone? com'è? sembra che sia andata a fuoco questa cosa è tutta bruciacchiata e fa abbastanza schifo questa pozione oh 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 Revi ma che cosa sei diventata? io sono diventata la Befana oh mamma la Befana ma perché proprio la Befana? cioè a me tutte le cose più brutte tu almeno sei diventato Aghiwaghi però sei diventato anche il Babbo Natale io invece sono diventata il Grinch e sono diventata anche la Befana ma è possibile ma no io non voglio essere il Grinch e la Befana insieme aspettate ci potrebbe essere qualcosa di divertente in tutto questo dove sono le caramelle? oh 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 ragazzi direi che per oggi basta avere pozioni vero Revi? eh direi che abbiamo un po' esagerato siamo non so quanti personaggi insieme allora ragazzi noi ci vediamo presto in un altro video un saluto da Revi Molly Aghiwaghi il Grinch papo Natale e la Befana ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.